Per Lorenzo Baliello il 29 luglio 2021 è la data della rinascita. Dopo una prima chiamata e il ritorno a casa per incompatibilità dell'organo, nelle sale operatorie dell'equipo dei trapianti e patobiliari dell'azienda ospedaliera di Padova, Lorenzo è tornato a vivere. La sua testimonianza in un'occasione festosa alla Sagra di Vigonovo, il paese dove vive, è un segno di speranza. Dopo colangite e sclerosante primitiva, per Baliello, sposato e padre di un ragazzo, il trapianto è stata l'unica via. Dall'intervento e grazie al suo angelo donatore, un ragazzo di 17 anni, nonostante due piccole crisi di rigetto e tanti farmaci, Lorenzo Baliello, testimonial e socio Aido, è tornato a una vita quasi normale e dopo aver ottenuto il certificato di idoneità agonistica a febbraio scorso, ha partecipato, unico atleta trapiantato tra mille atleti arrivati da tutta Europa, alla Gran Fondo Internazionale di Ski, da 37 chilometri da Dobbiaco a Cortina.